Sono tre giorni che sta piovendo ininterrottamente e l'acqua chiaramente si è precipitata dove ha trovato un po' di scoscesso, di discesa sia aperta degli alberi, chiaramente facendo un casino. Dalle altre cose si è sommata alla copiosa precipitazione anche per lo sbalzo della temperatura da meno 8, 10 a più 7, 8, il bigello di quasi un metro di neve che era venuto giù e questo è il risultato. Qua c'era un ponticello, ovviamente è stato portato via, simbolici, immaginate un po', eccolo qua, per cui si può dire che la zona della crocina che è al di là di questo argine è isolata. Sta reggendo un pochettino, lo vedo là in fondo, un altro ponticello che ora andremo a vedere. Beh, insomma comunque sarà una buona stagione per i funghi, vabbè, si viene da ridere. Guardate un po', per quale motivo, vedi? Si intravedono ancora le strutture del ponticello, ma ovviamente ha portato con sé questa virulenza dell'acqua, ha portato con sé anche alberi, tronchi, tronchetti che si sono appoggiati poi lì e ovviamente poi l'acqua è andata di là, di sopra, di sotto e ha smantellato tutto. Buon Natale a tutti! Grazie!